segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te abbiamo appreso da un'intervista rilasciata dall'onorevole schlain che la stessa onorevole si avvale della consulenza di una armo cromista che si fa pagare 300 euro allora la signora si chiama enrica chicchio cacchio verrebbe da dire io vorrei suggerire all'onorevole schlain una cosa semplice se mi paga la metà di quanto prende enrica chicchio io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista cromatico anche migliore